io non ho voglia di scarpinare io vado tu di qua se vuoi scarpinare vai di là se vuoi scarpinare vai di là beh Giovanni dov'è? no, era tu voi no da noi Gio non sei è rimasto che mi figlio siamo di qua poi siamo di là andiamo? vai ok 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 è avventato l'attacco è vero che non ti piace sempre vado Dio va ma mai successo? a me si in un salto ma mai in un salto ma mai in un salto ma mai in un salto è un salto va Grazie. Guarda che stanno fatto. Dove sono? Cazzo dici? No, non so quello. Ci sono già impazzonati? No, verde è arrivato in fondo. Dove è l'ori? Verda sta entrando in pista. L'ori non sarà niente. No, no, l'ori è quello là. Guarda Andrini Brutto... Brutto... ma un più fattito ne avanti ultimi vede che friola qui sta comando una mano non è arrivato gli altri? anche la aria ieri è la aria guarda te vieni guarda te vieni quello è lato la palla vieni qua ne avanti voi coi... mi chiedi dobbiamo risalire qui grazie